Ma commissario, anche lei mi cade sempre sul profano. Ma purtroppo il buffo attira. Lo so, lo so. Salve signora, vi presento la regla da Giacomo. Piacere, Gian Gian Domenico, salve. Lei è la nuova criminologa? Sì, sì, cioè almeno. Vediamo cosa dirà il comandante. A quanto pare la signorina, giusto? Esperta, interrogatori e psicologia. Perfetto. Ma per interrogatori oppure anche per consulenze? Ma anche per consulenze. Fondamentalmente, fin tanto che abitato a New York, avevo un mio piccolo studio. Soltanto che il mio sogno da ragazzina era comunque lavorare sul campo della criminologia. Sono laureata per questo, d'altronde. È stata una delle prime lauree che ho preso. Successivamente sono andata ad Harvard per prendere anche la seconda in psicologia applicata. Quindi comunque più o meno so come muovermi sul campo. Ma solamente un'esperienza sui libri o sul campo? È mai stata sul campo? No, anche sul campo. Ovviamente tutti i suoi sono stati applicati. Quindi lei, oltre all'altro, ha fatto anche pratica? Ovviamente. Perché qui abbiamo visto in questi due giorni degli episodi che sono raccapriccenti. Ora potrebbe doversi confrontare con soggetti notevolmente disturbati mentalmente, sia dalla parte degli agenti che hanno subito uno shock, sia dalla parte dei civili che non sono abituati. Moltissimamente immagino. No, posso fare anche consulenza soltanto in quanto come psicologa, appunto, occuparmi, diciamo, anche del morale degli agenti e anche magari dei civili che ne hanno bisogno. Quindi lei potrebbe anche interagire con loro assistendo agli interrogatori, facendo domande magari più mirate delle nostre, insomma? Sì, sì, assolutissimamente. Perfetto. Quello che ne manca, infatti, quello che serve. Secondo me potrebbe darci una grossa mano, sai, io sono il commissario, lui è il capitano Taylor e diciamo che io sono più un tipo da strada, nel senso che io porto i criminali qua e poi ci pensiamo in separata sede a domandargli delle cose. Perfetto, direi a ognuno il suo. Esatto, esatto. Quindi, come puoi vedere, sono abbastanza umile di dirle che una mano, soprattutto, anche dal lato opposto, che magari un uomo potrebbe trovarsi più facilità a confidarsi con una donna che magari con una faccia da cazzo come me, insomma. Commissario, i suoi baffi sono meravigliosi. Non sia così duro per se stesso. La ringrazio, però so che io sono molto... Mettiamola così. Commissario, esploso qualcosa all'esterno. Sì, è il solito container del cazzo che non lo svuotano. Quindi, signorina, per me, per quanto mi riguarda, io accetto la sua proposta. Sì, anche per me, adesso la faccio il contratto per criminologa e per psicologa della questura, ok? Lei ovviamente farà parte del corpo della polizia, quindi io penso che se lei voglia e ce ne sarà modo e bisogno, lei, almeno per mio parere, se vuole essere affiancata, può avvenire che non so. Magari sì, perché possiamo portarla sul campo, commissario. Sul campo adesso non è agente, quindi lei, ma anche di no. Però in centrale lei magari avrà accesso anche agli uffici, quella che farà fare una chiave personalizzata. Ok, perfetto. Comunque ecco, potrebbe essere anche un nostro capo espiatorio per tante cose. Vi stavo dicendo anche, in base anche, diciamo, ai crimini che avvengono, io magari avrei bisogno di eccedere. Io però non ce la faccio, raga. Allora, io non posso leggere voi che scrivete le minchiate. Non posso leggere voi che scrivete le minchiate. Dai, raga. Quello là, lecca gli piedi. Machirol, per favore. Per favore, Machirol. Però, per favore, dai. E' la chat vocale che dà errore, eh? Però non può, ho capito, ho capito, ma non... Ragazzi, io ce la faccio fino a una certa, non riesco, raga. Mi fate ridere, mi fate ridere troppo. Mi fate ridere troppo. Vediamo se riusciamo a rientrare. Poi, figa, stiamo parlando in quattro normali, esplode qualcosa. E quello dice, è il cazzo di container del solito. Che nessuno lo svuota. Come faccio? Adesso io, va benissimo tutto, fantastico, eccezionale. Ho capito, però... Dai. Non posso lavorare in queste condizioni, ragazzi. Ho capito, però è follia pura anche qua. È follia pura anche qua, raga. Dovete essere... Per favore, per favore. Per favore, per favore. Io cerco di mantenere il personaggio, però mi fate pisciare dalle risate anche a me, raga. Non ce la faccio. Adesso. E oggi è così, se non... Io non posso leggere un macchino che scrive cose. Il problema... Cioè, figa, a un certo punto, c'è stato nella stanza, c'era la signorina e otto agenti intorno. A me è sembrato vagamente equivocante, una cosa del genere. Va bene. Mi piace che la gestiamo, torno nel personaggio. E anche oggi ci si veste oggi. Mettiamo sti cazzo di pantaloni per l'ennesima volta. Un secondo. Ti prego non crashare, ti prego non crashare. Ah, ma le mando messaggio. Perfetto. Eccomi, commissario. Oh mio Dio, che dolore. Mi scusi, agente. Mi scusi, collega. Posso dire da ridere, per caso? Assolutamente no. Collega, ho un leggero... Ho un leggero... Problema alla tosse. Le chiedo scusa, collega. Il numero è 9110. Non sia mai. Le mando un messaggio anche a lei. Allora, signorina Gillian. Arrivo commissario, mi vado a mettere l'odifisa. Sì, sì, mi vado a cambiare. Guardi, lei è ufficiale. Guardo? Eccomi. Ciao, lei. Chissà dov'è. Mi sono completamente perso... Nella stanza. Sono sicuro Che fosse al piano di sotto. Eppure ero convinto... Queste sono le stampanti. Non riesco proprio a ricordare dove dove questo è l'interrogatorio. Era sicuramente da qualche parte. Non me la ricordavo così grande però, questa stazione di pulizia. Ah, bene, ecco, le scale. Fantastico. Non sia mai che come sia. Ah, molto bene, molto bene, molto bene. Così riesco... Devo assolutamente... Devo assolutamente chiudere le porte prima che possa entrare. Forse è una mona volante. Solo perché aveva una chitarra. Forse la mona non si usa più. Forse... Assolutamente direi che in questa stazione di pulizia c'è... Follia pura. Ok, vediamo se riusciamo a salire. Dunque, la stanza dell'interrogatorio. Eppure non era così grande l'ultima volta. Chissà dov'è il commissario. Eccolo! Grazie mille. Ok, quello non è un problema. Eventualmente invece per riuscire a comunicare velocemente con voi, utilizzo la chiamata commerciale 3 minuti. Mi dovesse servire. No, guarda, comunque noi siamo sempre presenti uno dei capitani, quindi può fare chiamata di riferimento direttamente a noi. Sì, non si contatta. Va bene, ok. Sì, è riservata. Sì, naturalmente informate anche gli agenti di questa disponibilità che c'è adesso. Ok, ma guardi, veramente io preferirei lei fosse non conosciuta. Per queste cose che sono successe preferirei che parlasse solo con gli altri in grado o delle regole di cui ci possiamo fidare. Eh, vabbè! Sì, sì, no, io sono soltanto la psicologa della polizia eventualmente. Perchè? Mmh, perfetto. Ok. Allora, ecco, rivedo. Ragazzi... Cazzo di live! Però dai, raga. Però non è possibile. Perchè? Io non ce l'ho... Non si può però fare così RP, raga. Non si può fare RP in questo modo. Ma perché? Perché? E anche oggi ci si cambia oggi. Perché? Perché? Perché?